Benvenuti a Parla col Tubo, l'unico programma che svela tutti i retroscena e backstage degli youtubers italiani. Oggi, in esclusiva con Parla col Tubo, abbiamo il signor YouTube. Salve. Ci dica qualcosa di interessante? Parla col Tubo. Beh, faccio 3 miliardi di visualizzazioni al giorno. Sti cazzi. Vado avanti. Parleremo di questo anche. Ho fatto quello che devo fare. Parla col Tubo e fallo subito. O Tubito. Tubo. All'Ottubi. Tubo.